Aggiornamento di Calcio Mercato Inter, questa volta però un po' particolare perché partiamo dalle notizie innanzitutto. In attesa di capire come si evolveranno, come si risolveranno soprattutto le questioni relative alla proprietà dell'Inter, l'area sportiva chiaramente è già a lavoro in maniera piuttosto significativa, lo sappiamo con dei colpi già fatti in vista della prossima estate e si sta già programmando quello che sarà il prossimo mercato estivo, un mercato in cui ci saranno diversi obiettivi da raggiungere, economici e sportivi, tra questi anche l'idea di aggiungere dei tasselli più giovani a questa rosa, sia per motivi di programmazione tecnica nel senso di continuare a pianificare anche un ricambio rispetto a degli elementi che ci sono oggi e che sono più in là con gli anni, sia per motivi di bilancio e di valorizzazione della rosa, mettiamola in questa chiave qua, oppure citiamo il famoso player trading nel senso che tutte le società italiane, Inter inclusa ma anche società estere, devono fare affidamento anche sulla valorizzazione e la rivendita di alcuni giocatori. E allora dopo l'esperimento con Jan Bissak che sta dando dei frutti e che sta sicuramente convincendo sempre di più, un esperimento che è stato fatto la scorsa estate con l'acquisto di questo difensore dalla Danimarca, ecco di nuovo l'idea che serpeggia in casa Inter è quella di provare a replicare anche questa estate un affare di questo genere, chiaramente se si presenta l'occasione giusta su cui puntare. E allora su Passione Inter ci siamo chiesti, ma c'è un'occasione giusta in questo momento? Chi può essere il nuovo colpo alla Bissak nel 2024? Ecco, dei tentativi su alcuni nomi l'Inter li ha già fatti, qui in questo episodio di oggi vogliamo portarvi delle ipotesi nuove con un modus operandi un po' particolare che adesso vi vado a spiegare e quindi ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi invito subito a lasciare un mi piace e se non lo avete ancora fatto iscrizione al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti quotidiani, mi raccomando seguiteci sempre. E allora per questo contenuto di oggi devo partire inevitabilmente da una premessa fondamentale che ci aiuta a delineare un po' tutto il contesto di questo contenuto che vi porto e per tanti motivi oggi è difficile dire chi andrà all'Inter poi effettivamente a prendere la prossima estate insieme al nostro Antonio Silagusano che ringrazio allora per l'aiuto in questo contenuto di oggi abbiamo cercato quindi di seguire un ragionamento, un certo tipo di logica per poi farci supportare da dei dati statistici per rendere tutto più concreto. E allora per capire chi può essere il nuovo colpo alla Bissec credo si debba partire innanzitutto dal contestualizzare quello che è stato l'arrivo di Bissec all'Inter nell'estate del 2023 cioè che caratteristiche aveva quella a fare lì. Al di là dell'aspetto tecnico chiaramente sappiamo un difensore lo si è visto subito molto forte fisicamente abituato a partecipare alla costruzione anche dal basso utilizzato un po' in tutti i ruoli della difesa tre e questo ok lo sappiamo sicuramente un giocatore tecnicamente sensato per l'Inter di Inzaghi ma non è tanto questo quello che ci aiuta nella nostra ricerca di oggi nel senso che è logico che si vada a prendere un giocatore con delle caratteristiche interessanti ed utili. Per prevedere secondo me le possibili mosse dell'Inter della prossima estate ci interessa soprattutto il fatto che Bissec è un classe 2000 nato nel 2000 quindi viene acquistato di fatto a 23 anni anche se poi li ha compiuti a novembre per cui si va a prendere un giocatore giovane sì ma non giovanissimo in realtà. Un giocatore che sicuramente era poco conosciuto dal grande pubblico, dubito sinceramente che gran parte dei tifosi dell'Inter conoscessero questo giocatore quando è stato accostato all'Inter per la prima volta. Un giocatore che aveva fatto tutte le giovanili con il Colonia in Germania poi quasi a 23 anni però aveva già girato comunque l'Europa e diversi club perché aveva giocato anche in Olanda, in Portogallo e poi in Danimarca appunto da dove lo ha preso l'Inter. E aveva anche una buona esperienza nelle selezioni giovanili tedesche fino all'Under 21 dove è stato anche capitano nell'Europeo 2023 dove la Germania non ha fatto molto bene la Germania Under 21. Aveva un valore di mercato secondo il portale Transfer Market che non è la bibbia ma è sempre un riferimento che ci può aiutare a tenere d'occhio attorno ai 5 milioni di euro. Nel contratto con Larus però la società da cui l'Inter lo ha acquistato c'era una clausola recessoria da 7 milioni di euro che prima l'Inter sembrava voler pagare subito per intero poi invece l'affare è stato concluso a titolo definitivo con un pagamento dilazionato in più anni e una percentuale del 5% sulla futura rivendita. Quindi un'operazione non dico onerosa ma comunque un certo investimento c'è stato e l'Inter lo ha fatto. Tra l'altro con altre società che hanno provato anche ad inserirsi in quella fase calda della trattativa in cui l'Inter stava cercando di chiudere l'affare addirittura il Manchester City ha ulteriormente fatto lievitare secondo me un pochino le condizioni dell'operazione. Questo comunque è il contesto all'interno del quale si è creata l'operazione bis. Ecco l'operazione che conferma come ci sia sì l'intenzione da parte dell'Inter di ringiovanire gradualmente la rosa ma per tanti motivi condivisibili o meno questo lo lascio decidere a voi e magari me lo scriverete nei commenti è un dato di fatto però che è difficile oggi immaginare un Inter che prende ragazzi di 17 18 anni o giù di lì e li lancia subito nell'Inter di oggi. Per cui seguendo questo tipo di logica direi che un nuovo colpo alla Bissec vada ricercato sempre in questa possibile fascia di età cioè tra i 21 e i 23 e 24 anni magari questa fascia qui. Quindi giocatori che hanno già un po' di esperienza in dei campionati professionistici chiaramente di prima fascia di primo livello anche se magari non nei top 5 campionati d'Europa ma ecco se deve essere un acquisto sullo stile di Bissec allora devono essere anche giocatori chiaramente che provengono o da campionati meno noti o da squadre meno note chiaramente. Questo è il primo passaggio all'interno del quale abbiamo voluto fare la nostra ricerca su questi nomi. Poi soprattutto c'è da individuare il ruolo in cui andare ad intervenire. Quale può essere quindi il reparto in cui l'Inter può andare a piazzare un colpo alla Bissec in questa estate 2024. La difesa potrebbe aver bisogno di facce nuove ma lì l'investimento lo hai già fatto su Bissec lo stesso Pavard soprattutto molto oneroso e forse in estate se si decide di far partire a Cerbi per esempio potrebbe servire un giocatore un po' più pronto da lanciare subito titolare. Discorso simile per la porta dove non mi aspetto un nome sconosciuto che l'Inter vada a prendere come nuovo vice Sommer o come nuovo titolare da affiancare a Sommer eventualmente. A centrocampo l'Inter è già coperta a livello numerico con l'arrivo di Zilischi a parametro zero e penso che semmai l'idea sarà quella di riprendersi Fabian eventualmente che sta esplodendo al Bologna e c'è già un'opzione per il riacquisto nel 2025. Sugli esterni magari sì può essere una possibilità anche se c'è già Buchanan come investimento più o meno le cifre sono quelle come caratteristiche un po' può essere quello anche se già più esperto e più conosciuto di Bissec però è un giocatore che hai già preso quindi ancora da scoprire oltre al fatto che ci sono altre situazioni da delineare sugli esterni. Per cui credo crediamo su Passione Inter che l'attacco possa essere il reparto giusto in cui provare un acquisto di questo tipo un affare alla Bissec appunto eh questa estate considerando che la prossima estate sarà una sessione di mercato in cui l'attacco potrebbe essere di nuovo rivoluzionato perché oltre a Tremi servirà almeno un altro giocatore se non due addirittura se si concretizzeranno le varie uscite di cui si sta parlando da Sanchez a Arnautovic e Correa che non va mai dimenticato che va piazzato. L'idea potrebbe essere quella di allungare a cinque giocatori il reparto offensivo e un quinto profilo quindi un quinto attaccante potrebbe avere un profilo di questo tipo cioè da valorizzare e considerando anche tra l'altro qui andiamo un po' nelle indiscrizioni da quello che so Ausilio la rete di osservatori dell'Inter comunque già da tanti mesi si sta muovendo alla ricerca di un nuovo attaccante da poter valorizzare da poter far crescere sia in ottica eh valorizzazione dell'Inter che in ottica player trading. E allora i nostri ragionamenti li abbiamo concentrati proprio sull'attacco. Attacco eh dove ci sarebbe il nostro Valentin Carboni sempre da non dimenticare che nel frattempo ha debuttato con la nazionale argentina e ha strappato anche un sacco di complimenti ai cronisti argentini ma di Carboni parleremo tra poco. Quali possono essere allora dei colpi alla BISEC per l'attacco dell'Inter nell'estate del duemilaventiquattro. Per andare a rindividuare proprio i nomi abbiamo fatto un passaggio in cui ci siamo affidati quindi a dei dati statistici come ci piace sempre fare. Siamo andati ad utilizzare un software che usiamo spesso su Passione Inter e abbiamo pensato allora l'Inter a quanto pare si sta muovendo su dei giocatori per l'attacco sono spuntati già dei nomi con cui l'Inter potrebbe completare l'attacco e sono tutti i giocatori eh con cui l'Inter pare voglia mettere dentro a questa squadra delle caratteristiche che in questo momento mancano quindi soprattutto giocatori d'attacco di movimento anche di collegamento con gli altri reparti abili nel dribbling ma che hanno anche la giocata e quindi hanno uno spessore tecnico eh rilevante. In particolare tra i vari nomi che stanno circolando è calda l'ipotesi Gudmundson del Genoa anche se mi arrivano delle notizie contrastanti e come vi raccontavo settimane fa e adesso ne parlano in tanti più di qualche pensiero sul raspadori l'Inter lo ha fatto e nel caso in cui dovesse lasciare il Napoli era un'idea eh interessante da tenere d'occhio eh dico era perché credo che dopo il caso Zielinski soffiato a zero eh al Napoli stesso e adesso dopo il caso Juan Jesús a Cerbi non so se sarà possibile trattare con serenità con il Napoli. Al di là di questo ci interessano le caratteristiche di Gudmundson e il raspadori perché piacciono all'Inter. E allora queste caratteristiche le abbiamo mixate guardando cercando di trovare i punti di contatto cercando di guardare poi eh nelle statistiche che stanno avendo in questo campionato in quest'anno lo abbiamo li abbiamo riportate dentro quei parametri che ho indicato prima in termini di età esperienza e anche costo del cartellino perché è chiaro che su un attaccante spendere solo sette milioni di euro per un giocatore da Inter è molto difficile quindi devi prevedere una spesa un po' più alta per se vuoi prendere un attaccante di certo però non molto più elevata visto che il budget è comunque contenuto quello a disposizione. E allora unendo i paletti tecnici delle caratteristiche tecniche eh a quelli economici e quelli delle caratteristiche del colpo alla BISEC sono emersi tre nomi più uno mettiamola così tre nomi più un nome bonus che secondo il nostro software potrebbero somigliare quindi ad un incrocio Gudbunson Raspadori dal lato tecnico e BISEC dal lato diciamo del tipo di operazione da fare. Vi condivido la schermata con la carta identità e il primo nome da tenere d'occhio allora è quello di Sergio Cameio eh un attaccante spagnolo classe duemila uno che eh è cresciuto a scuola atletico Madrid oggi gioca nel raio Vallecano che l'ha riscattato la scorsa estate transfer market lo valuta oggi tre milioni di euro visto che non ha confermato del tutto quelle che erano le aspettative e quest'anno sta avendo qualche difficoltà in più eh detto che il raio Vallecano non sta facendo una stagione eh con realizzativa clamorosa dal punto di vista dei gol segnati non sta valorizzando troppo eh l'attacco ehm sta cercando di esplodere in provincia un giocatore che di cui si parlava bene soprattutto nel settore giovanile dell'atletico Madrid non è un vero e proprio bomber è un attaccante più di manovra ha una buona esperienza anche con tutte le selezioni eh giovanili spagnole e non porta comunque dei numeri realizzativi clamorosi ma è un giocatore tecnicamente interessante da tenere d'occhio e che si potrebbe eh prendere anche ad una cifra piuttosto contenuta e quando prendi secondo me dei giocatori eh comunque relativamente giovani a delle cifre molto contenute è difficile poi che sbagli il tipo di investimento. Eh questa era una prima ipotesi che ci viene suggerita dal nostro software incrociando le varie statistiche tutte le varie eh caratteristiche saliamo un po' di livello però e andiamo eh con il secondo nome che ci viene proposto che è quello di Zeki Anduni questo sì profilo secondo me più interessante rispetto a Camelio con tutto il rispetto ma è già eh di partenza come ruolo come posizione è più offensivo più forse un po' più centravanti ecco sicuramente più pericoloso in zona in zona gol nell'ultima stagione sta giocando nel Barley in questo momento eh alla prima stagione in Premier League eh è svizzero classe duemila in questo campionato per ora ha segnato soltanto eh quattro reti e anche per questo diciamo la sua valutazione di mercato non è esplosa non è aumentata tantissimo si aggira attorno ai quindici milioni di euro a quanto pare è un giocatore ambidestro alto un metro tantacinque anche ben strutturato fisicamente eh è bravo nel gioco aereo e sembra secondo me adatto alla tipologia di gioco di Zaki soprattutto anche nella ricerca eh della verticalità da più di un anno ormai è stabilmente anche nel giro della nazionale svizzera e se non ricordo male credo che nelle sue prime quattro cinque partite di qualificazione agli europei deve aver segnato o sempre credo abbia segnato in cinque partite consecutive anche una doppietta quindi un buon feeling con il gol con la nazionale svizzera in Premier League per ora l'ho fatto vedere meno anche qua il Barley penultimo in classifica se non ricordo male non è che stia aiutando tantissimo eh i propri attaccanti ecco eh il terzo nome da tenere d'occhio è un profilo diverso per caratteristiche ehm e mi riferisco a Mohamed Cham eh attaccante eh austriaco di nazionalità classe duemila anche lui eh mentre sì anche anche Amduni era duemila quindi siamo su tre attaccanti classe duemila eh giocatore mancino questo eh molto raffinato eh tecnicamente gioca più tra le linee quindi eh è meno attaccante sicuramente forse è un po' più trequartista in realtà come eh come ruolo un rifinitore quindi più che un finalizzatore eh diciamo che potrebbe in quest'ottica prendere un po' il posto di Alexis Sanchez come eh come ruolo per come viene utilizzato Sanchez anche in questo momento nell'Inter di Inzaghi eh Transfer Market gli dà una valutazione di circa sei milioni di euro gioca nel Clermont in Ligan in Francia e e ultimamente sta rientrando anche nel giro della nazionale austriaca quindi eh sta riprendendo anche il posto in nazionale questo è del terzo nome ce n'è un quarto che come vi dicevo è un nome un po' bonus che è emerso eh inserendo questi parametri di ricerca ehm abbiamo inserito in realtà qui anche eh delle statistiche di Reteghi dell'attaccante Retegui Reteghi eh della nazionale italiana di origine argentina attaccante del Genoa che eh abbiamo voluto inserire questo parametro per cercare sì un profilo alla BISEC ma che potesse essere anche un po' più finalizzatore rispetto ai nomi che abbiamo visto eh fino ad ora e quindi aggiungendo anche questo parametro di ricerca il quarto nome o il nome bonus che è emerso è quello di eh Teis Dalinga spero di aver pronunciato bene il nome di questo attaccante sempre classe duemila olandese però lui di nazionalità eh gioca sempre in Francia nel Tolosa in Ligan ha debuttato anche con la nazionale olandese credo abbia una sola presenza però con la nazionale maggiore eh e questo già è un profilo differente nel senso che quest'anno per esempio è in doppia cifra in campionato eh ed è quello che diciamo dal punto di vista del del ruolo è più centravanti puro rispetto agli altri nomi che abbiamo visto eh fino ad ora anche dall'alto del suo metro e novanta quindi porta anche una stazza fisica eh differente gli viene data una valutazione da circa quindici milioni di euro da parte di eh Transfer Market e eh è sicuramente un giocatore più da area di rigore quindi rispetto agli altri profili che abbiamo visto prima. Questo quindi è il quarto nome che viene segnalato dalla nostra ricerca eh del possibile nuovo colpo alla Bissec fatemi sapere se li conoscete già se che ne pensate oppure se li terrete d'occhio da adesso in poi e se possono diventare effettivamente secondo voi dei colpi adatti all'Inter eh senza dimenticare visto che lo citavo prima ovviamente il nostro Valentin Carboni che è di proprietà dell'Inter a fine stagione scade il prestito al Monza tornerà all'Inter che da quel che sappiamo oggi non ha ancora deciso il futuro dell'argentino eh di sicuro sappiamo che l'idea sarebbe quella di non perdere il controllo del suo cartellino perché l'Inter eh vuole tenerlo vuole continuare a puntarci eh per cui le ipotesi più probabili al momento per Valentin Carboni al momento sono eh o un altro prestito ma in una squadra di un livello un po' più alto rispetto al Monza eh o un'operazione in stile Fabian potrebbe essere usato magari eh come contropartita in un affare cedendolo con una clausola di riacquisto eh tra un anno o due in questo modo l'Inter avrebbe un giocatore più pronto nell'immediato e nel frattempo fai valorizzare Carboni in un'altra squadra come sta avvenendo con Fabian al Bologna altrimenti in estate immagino Inzaghi lo valuterà il ritiro e eh se convincerà si potrebbe decidere di puntare su Carboni appunto come quinto attaccante eh come completamento nell'attacco dell'Inter facendolo rimanere direttamente alla base in erazzurro sempre che non arrivino delle offerte molto elevate che possono mettere un po' tutto in discussione perché a gennaio pare siano stati rifiutati circa venti milioni di euro eh che offriva la Fiorentina adesso si parla anche della Lazio molto interessata che vorrebbe sostituire eh Zaccagni, Felipe Anderson comunque deve fare degli investimenti in attacco eh c'è anche la Premier League e non soltanto quindi dovessero cominciare ad arrivare delle offerte anche superiori ai venti milioni di euro considerando che sarebbe una plusvalenza totale ehm credo che almeno verranno prese in considerazione come proposte ecco quindi attenzione a questo attenzione a Carboni Carboni o gli altri quattro nomi fatemi sapere voi cosa ne pensate vi aspetto nei commenti abbiamo voluto ehm voluto provare a fare anche un gioco approfittando anche di questa sosta per le nazionali e poi nelle prossime ore ci concentreremo sempre di più sul campionato ovviamente visto che torna e vogliamo andare dritti verso questa seconda stella vi aspetto nei commenti vi aspetto anche nel club dove eh stanno arrivando delle novità su www.passioneinter.club la nostra grande community di interisti da tutto il mondo ci vediamo lì eh per vivere insieme questo finale di stagione vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast mentre per chi ci segue da youtube vi basta cliccare qui ciao 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 ciao